Sono la Pinacoteca Ambrosiana per conoscere meglio dieci opere qui custodite. Il protagonista di questa puntata è il ritratto di musico di Leonardo da Vinci. Quest'opera è dipinta su una tavola in noce spessa 5 mm, una scelta insolita per la Lombardia ma presente in altri capolavori di Leonardo, come la dama con l'ermellino. Realizzato con una preparazione bruno-rosata, seguendo gli insegnamenti artistici di Leonardo, ha una provenienza a volte nel mistero. È citato per la prima volta negli inventari dell'Ambrosiana nel 1681 e indicato come ritratto di un dottore. Attribuito nell'Ottocento a Bernardino Luini e poi ad Ambrogio De Predis, la critica novecentesca ha confermato l'attribuzione a Leonardo da Vinci. Carlo Pedretti ha associato una citazione di Leonardo riguardante l'espansione delle pupille alla sottile differenza tra la pupilla destra e sinistra nel ritratto, suggerendo che il soggetto sia stato immortalato nell'attimo in cui le pupille si dilatano con il calare della luce. Durante il restauro del 1905 è emerso un dettaglio affascinante, un cartiglio che rivela che il personaggio raffigurato è un musicista, forse Franchino Gafforio, maestro di cappella del Duomo di Milano fino al 1484. Altre ipotesi riguardano figure come Jean Cordier de Bruges o Angelo Testa Grossa, maestro di canto di Isabelle d'Este, basandosi sulle parole sul cartiglio.